Ciao a tutti, oggi abbiamo due turbocompressori applicazione marina, motori Volvo Penta Shift 2004 di cilindrata, 67 kilowatt. Questi due turbocompressori sono un po' sottodimensionati e li andremo a revisionare ed elaborare. Un turbocompressore era già lotto, mentre quest'altro turbocompressore era stato venduto da poco ed era ancora efficiente e il cliente ha deciso di incaricare noi per fare una revisione ed elaborazione. Entrambe le turbine sono state disassemblate e continua la nostra lavorazione per la revisione ed elaborazione. Entrambe le crocce lato aspirazione sono state tornite ed allargate per alloggiare un coreassi più performante, con girante lato aspirazione maggiorata e kit interno irrobustito. Il procedimento successivo sarà una curata pulizia tramite lavaggio e sabbiatura e il ripristino degli alloggi interni. Il passo successivo al lavoro di pulizia, sabbiatura ed allargamento delle chiocciole per assemblare un coreassi maggiorato sarà quello di procedere all'assemblaggio definitivo. Ed eccoci giunti al termine del nostro lavoro di revisione ed elaborazione di questi due turbocompressori marini. Tornitura alla traspirazione per alloggiare un corpo interno maggiorato. Ripristino delle sedi interne e del cono. Questo lavoro di elaborazione ci consentirà di avere un'imbarcazione con dei motori con un'ottima risposta fin dai bassi regimi garantendo più potenza e tanta tanta coppia.